Benvenuti alla coscienza di Zeno, spiegata al popolo! Vi raccomando, questo è un F-Dig, non c'è mai una serata uguale a un'altra, perché noi stasera, come tutte le altre sere, estraeremo a sorte delle scene della coscienza di Zeno e poi le faremo. Avete studiato? Quanti di voi hanno letto la coscienza di Zeno? Alzate la mano, vediamo subito. Ah, tanti oggi! Noi, rilassatevi, chiacchierate, fate pure casino, perché tanto noi non ci dobbiamo concentrare. Il padre, prima di morire, sta male? Certo, se stava bene non moriva, insomma. No, 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 non so, non so, no, no, non so, non so. Bene, siete il pubblico giusto per questo spettacolo. L'ipnosi. L'ipnosi, l'ipnosi, l'ipnosi. Noi speravamo nel gittone, chi in realtà? Tu osserva questo specchio, Sandro. Osservo lo specchio. Osserva bene lo specchio. Cerca di concentrarti, anche il pubblico deve formare una catena di concentrazione medianica molto intensa. Non pensare a nient'altro, pensate a Zeno Cosini. Si è trasformato in George Clooney una volta, durante le prove. Attenzione, non create interferenza. Zeno Cosini. Mi parli di suo padre, i contrasti più frequenti tra lei e suo padre, su che cos'erano? Eh, aspetti che penso. Ah sì, nel portale a letto mia madre dopo averlo fatto fuori. Ah sì? No, l'ho detto apposta perché voi avete la fissa di Edipo, dottore, sì, lo so. Io, io semplicemente, mio padre mi rimproverava che ero sempre distratto e del fatto che ridevo delle cose serie. Quando lasciai gli studi di legge per approcciarmi a quelli di chimica e poi per tornare di nuovo a quelli precedenti, sempre con il suo consenso, lui mi disse, figlio mio, resta sodato però che tu sei completamente pazzo, sì. Ah, invidia, eh? Chi conosce una sola giornata di un fumatore che prese la risoluzione di non fumare non dà più di tali consigli? Un tale fumatore conosce per esperienza tutta la fisiologia del vizio, quelle ferme risoluzioni interrotte da cadute inerdi, oppure poco alla volta disfrutte da transazioni vigliacche e infine dimenticate con un allegro ragionamento fidantropico. Ma a che cosa vale la vita? Ma niente, fumiamo in pace! Non si poteva... Va bene, grazie, 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 signorina, signorina, prego, si sieda, si sieda. Ma non la sei accorto che mi del suo canto non me frega proprio niente, non l'hai capito? Non me la melassi. Ma come me la melassi? Se è dal primo momento che l'ho vista, che la vorresti passare. Sì, ma il signor Copler disi che lei la sei tanto innamorata di sua moglie, quindi tra di noi non che può l'essere che una semplice amicizia e niente altro. C'è vero? Mi estimo tanto mia moglie, sapevo. Che brutta merda. La metisi. La vita non è né bella né brutta, è originale E il mio tormentone, sapete, ormai non si lavora più come comici se non si ha un tormentone Perché c'è stata una guerra, eh, sì signori Anche nel nostro campo, sì Dio buono che caldo là, prima che arrivi il vento di levante, nero come la notte Mi baciò il mio bello di ragazza, sotto il muro moresco, sì E sì, dissi, lo voglio, sì, sì, lo voglio, ah, ah, sì Molly Bloom Bello, è il violino di Svevolo Svevolo, è il museo Svevolo Andiamo, andiamo, andiamo Tieni, piano, piano E il mondo scenderà al centro della terra al centro della terra al centro della terra e un uomo scenderà al centro della terra e tutto esploderà grazie grazie grazie